Un 32enne agli arresti domiciliari Ivan Narciso è stato ferito ieri sera a una spalla con colpi d'arma da fuoco mentre usciva dalla sua abitazione in Viale Europa, alla periferia di Foggia. La vittima è stata a soccorso e accompagnata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sono cinque le persone, tutte ritenute vicine alla criminalità organizzata foggiana, che nella notte sono state sottoposte all'esame STUB nell'ambito delle indagini per l'agguato. A quanto si apprende, il giovane agli arresti domiciliari si trovava in una zona esterna di pertinenza dell'appartamento quando una persona a volto coperto e armata di fucile ha fatto fuoco a distanza ravvicinata. Narciso è riuscito a scampare all'agguato rifugiandosi in casa. Non è stato al momento ascoltato dagli investigatori. I carabinieri stanno cercando di inquadrare questo agguato in un possibile sgarro maturato nel mondo della malavita locale. Rilievi anche su un'autovettura accidentata ritrovata ieri sera in zona Salice, al cui interno è stato recuperato un fucile. Non si esclude che possa trattarsi dell'arma utilizzata per compiere l'agguato a Narciso. Il 32enne è stato condannato di recente a cinque anni e sei mesi di reclusione per estorsione, esclusa l'aggravante mafiosa a un commerciante del posto.